Ciao a tutti raga, benvenuti in questo nuovo video di Michele Mottini Se non mi vedete nell'inquadratura è perché sono nascosto sopra lo scaffale Adesso muovo un braccio, sperando di non cadere nel vuoto Non so per quale motivo sto iniziando il video da questa posizione Ma mi sembrava abbastanza comoda Come cazzo faccio scendere adesso? Ciao raga! Bentornati! Bentornati sul mio canale ragazzi Questo qua è il mio studio ma è inutile dirvelo perché tanto lo sapevate già Perché ho visto che c'ho un po' di seguito ultimamente Quindi direi di iniziare subito con questo nuovo video documentario riguardo ai cappelli E non perdere altro tempo perché già le buffonate sono abbastanza Eccoci qui raga, allora Oggi iniziamo il video con questo pacchettino qua che mi è arrivato Che ho ordinato io giustamente per fare questo video Allora oggi vorrei parlarvi Del problema dei cappelli Sono mesi ormai che continuo a dire Faccio i cappelli, pubblico i cappelli, vendo i cappelli Il logo ciao raga per i cappelli E il merchandising, questo e quell'altro Un sacco di richieste continuano ad arrivarmi Che vogliono tutti comprare sto cappellino qui E io continuo a non fare i cappelli Perché? Perché? Perché non li fai i cappelli Michele? Perché? Ora ve lo spiego C'è da fare raga un attimino il punto della situazione Per evitare di passare come quello che parla parla e non fa Cosa che io in verità non sono E lo sapete benissimo che io faccio un sacco di cose E ce la metto tutta Quindi la domanda che io voglio porre a Michele Molteni è questa Perché cazzo non stai facendo i cappelli? Eh, è già iniziato? È già iniziato il coso? Innanzitutto ti ringrazio Michele per questa domanda Prima di arrivare al suo cuore o giusto fare una piccola premessa Per creare un cappello servono tanti Non dimentichiamoci che per creare un cappello Servono tante, tante ore di progettazione Soprattutto per quanto riguarda il logo Il logo deve essere una scoperta Il logo deve essere un'emozione Che l'artista vuole far arrivare ai propri fan Un'emozione che ti prende dentro e che non ti lascia più ragazzi Un'emozione per sempre Come diceva il buon Io e il mio team abbiamo lavorato veramente, veramente tante, tante ore Per arrivare finalmente ad un concetto Che non dimentichiamoci che io e il mio team Abbiamo lavorato veramente tanti mesi Per arrivare alla scelta finale del logo Da inserire sul marchio Da inserire sul cappello Tanta energia è stata sprecata per questo progetto E quindi il nostro obiettivo è non far naufragare il tutto Detto questo però Oltre a ringraziarti nuovamente per la domanda che mi hai posto Signor Michele Monteni Arriviamo al perché non siamo ancora riusciti a mettere in commercio Questi fottuti cappelli Beh che dire signor Michele Viviamo in un paese dove ognuno vuole la sua parte Dove anche i corrieri costano una fucilata Siamo riusciti a trovare delle aziende che ci proponevano dei cappelli A prezzi molto vantaggiosi Signori, molto vantaggiosi Ma per non scendere a patti con le versioni economiche degli abbigliamenti Non so anche che cazzo vuol dire quello che ho detto Ma per non scendere a patti con l'economicità Che può avere un cappello di questo tipo Siamo giunti ad una conclusione La conclusione del discorso intendo Non... In verità non so cosa succederà da qua in avanti con i cappelli Però questo discorso qua è finito È finito, ok? Grazie a tutti ragazzi Torno di là a registrare l'altro pezzo Ciao a tutti Praticamente raga Questo cappellino qui C'ha questo cavetto qua Dove è possibile ricaricarlo Poi c'è un libretto di istruzione Dove fanno vedere l'app che puoi scaricare E puoi scrivere veramente quello che vuoi E farlo comparire qui E cioè è una figata Adesso provo a scrivere ciao raga E praticamente sopra qua si dovrebbe vedere il ciao raga Che va verso destra Cioè non so se È molto bello come cappellino Arriviamo dunque però raga Perché è già un po' di minuti che è iniziato il video e non ho ancora parlato del perché effettivamente non sono ancora riuscito a fabbricare A commercializzare Mercificare questi cappelli Posso spiegare senza qualcosa come nel mio stile? Ovviamente no Quindi oggi useremo ragazzi il cassetto che ho sotto il c***o Allora Ci sono due modi raga Per commercializzare i cappellini in Italia o comunque Da qualsiasi parte credo no? O li stampo io Oppure il cosiddetto stamp on demand Qual è la differenza? Allora qua Io prendo 100 cappelli Li faccio stampare tutti Me li porto in casa E poi io piano piano distribuisco a chi mi li compra Invece qua stampa su richiesta Quindi io non devo comprare niente Ci sono dei siti che gestiscono tutto completamente Quando gli arriva la richiesta Allora ne stampano uno e lo speriscono E si risolve tutto così Cioè molto molto semplice Il problema sta nella differenza di prezzo Ok? Allora Ovviamente raga dopo aver fatto un sacco di ricerche su internet Ho trovato il sito dove me li mandava meno Stampati e con una qualità abbastanza decente Io volevo rimanere almeno su questo Ok? Questo qui è fatto dall'azienda Beachfield Non so se la conoscete Ma è un'azienda che fa cappellini E fa robe su cui stampare su loghi Se io stampo 100 cappelli con il logo E me li faccio spedire a casa Viene fuori 4,70 euro a cappello Dopo c'è da aggiungere Facciamo finta un euro Per la scatoletta e la confezione da spedire Dopodiché ho guardato sul sito delle poste La spedizione tracciata Perché io non c'ho voglia poi che La gente mi chiama e dove è il mio cappello Quindi io metto il codice di riferimento Ognuno va a vedersela dove è Perché sennò diventa più un casino che altro Quindi spedizione tracciata Mezzo chilo Sotto i mezzo chilo 30x20x15 Quello che è Costa almeno 8,50 euro Questo qua è il prezzo delle poste Potete andare a vederlo anche voi online Non c'è bisogno che ve lo dico io Troppo alto raga Questo prezzo qui è troppo alto Io pensavo di spendere 4 euro 4 massimo 5 euro Per ogni scatoletta che spedivo Probabilmente se chiamo I Corriere Expressi E faccio un contratto annuale Dove gli dico Guardate che io ho 500 spedizioni all'anno Magari riescono a farmi un prezzo Agevolato 4 barra 5 euro Magari riesco anche a farlo Però come faccio a sapere io Quanti cappelli vendo Quanti cappelli spedirò Magari ne ordino 100 Ne vendo 5 E poi che cosa faccio io Con il contratto Comunque sia raga Allora Se lo faccio io Il prezzo è questo 14,20 euro Quanto costa a me il cappellino Attenzione Qua Non c'è ancora il mio ricavo Arriviamo allo stamp on demand Questo sito qui raga Mi fa La stampa del cappello La confezione E la spedizione A 16,98 euro La differenza di costo raga Sono 2,78 euro Quindi questo qua costa 2,78 euro in più che questo Cerchiamo di ragionare Facciamo finta che io voglio guadagnarci almeno 5 euro ogni cappello Il totale quindi in questo caso diventa 19,20 Invece da questa parte diventa 21,98 euro Diciamoci la verità raga Per vendere un cappellino Un conto se è di marca Se è un'azienda conosciuta Se è una roba bella Figa Di moda Eccetera 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 Però più di 20 euro per un cappello Non è proprio poco Poi c'è da considerare anche il fatto che Chi lo compra Lo fa solo per sostenere me Non lo fa perché il cappello vale chissà che cosa Semplicemente si diverte a vedere i miei video che faccio su youtube E per tra virgolette congratularsi O per sostenermi Perché mi fa piacere Comunque supportarmi eccetera E' disposto a spendere magari 20 euro per un cappello E vi ringrazio già Per chi lo comprerà La differenza però Che mi fa più girare le palle E' che io preferisco E preferivo fare questa modalità Perché? Perché andando io a fare la spedizione Avrei potuto mettere dentro nel pacco Una lettera Magari con la dedica Piuttosto che un codice Con qualcosa Che poi alla fine si poteva fare Che ne so Una tombolata Tutti insieme Magari vendevo i primi 100 cappelli E chi trovava il simbolo rosso Mi vinceva un buono Amazon da 200 euro Non lo so E adesso sto sparando a caso Però potevo fare diverse cose Molto belle Ma quindi voi mi direte Ma allora perché non lo fai così e basta? Perché non lo faccio? Facendo così Io devo costruirmi il sito web Contattare i corrieri Andare io in posta Oppure aspettare che arriva il corriere Preparare tutti i pacchi Starei a fare tutte le dediche Che è l'unica cosa che vorrei fare Diventa un lavoro proprio Grosso da fare Cioè poi dipende quante cappelli vendo Nel senso se ne vendo tre Finisce subito Anzi Siamo sempre lì Se io vendo tre cappelli Apro un sito per che cosa? Per tre cappelli Cioè costa di più aprire il sito Che altro Poi è vero che Shopify Ha tre mesi gratuiti Però vabbè Dall'altro canto invece Il fatto che rende Questa situazione più appetibile È che io raga Posso vendere i cappelli neri Bianchi Grigi Rossi Posso mettere le magliette Le felpe E quello che voglio E selezionare anche le taglie Mentre qua sono vincolato A vendere soltanto un cappello Cioè raga Se uno non è abituato a mettere il cappello E vuole semplicemente mettere una maglietta Con scritto Ciao raga Perché vuole sostenere il mio canale Vuole aiutarmi a sopportare Quello che porto Eccetera Perché non devo fargli Prendere una maglietta Quindi Quindi Sono arrivato un po' A questa situazione qua Che Effettivamente Non so più come gestire È per quello che Ci ho messo un sacco di tempo A capire come fare Sticare i cappelli Quindi raga Qual è Cioè Il punto del discorso Qual è Il punto del discorso raga È che se io trovavo Uno spedizioniere Che mi faceva Meno di 8,50 euro Il disavanzo Tra le due modalità Era più alto di 3 euro Quindi Avrei potuto ottenere Il prezzo più basso E guadagnarci di più Invece Dato che la spedizione Costa tantissimo Mi conviene fare questa Quindi purtroppo Ahimè Devo piegarmi Al volere altrui E passare attraverso Altri siti web Almeno per l'inizio Possibilmente Posso mettere anche Le magliette Le felpe Se uno vuole il cappellino Grigio piuttosto che nero Può anche sceglierlo Magari uno gli fa schifo il nero Cioè Il vantaggio c'è in verità Però si guadagnerà Molto meno per me E purtroppo Costerà di più per voi Perché Come sapete Io mantengo La trasparenza In tutto quello che faccio Quindi voi sapete Esattamente Quanti soldi entrano a me E ricordiamoci Che poi io su tutti Questi incassi qua Devo pure pagarci le tasse Quindi non è che Se io vendo 500 cappelli Per 5 Sono 2500 euro Togli anche le tasse Ok Comunque Questo fa parte del gioco E continuiamo a giocare Va bene Quindi detto questo Raga Allora Detto questo Il video può finire qua Ragazzi Questo qua Era semplicemente Un racconto Di come Perché Non sono ancora riuscito A mettere questi cappelli In vendita Ma ci sto lavorando Tant'è che se mi segui Su Instagram L'altro giorno Ho messo una storia Dove faccio vedere Il mini shop Che sto creando A questo punto Però vorrei chiedere a voi Tramite un sondaggio Che ho già messo Sulla community di YouTube Quindi Dove io metto i video Andate su community C'è un sondaggio Dove vi chiedo Secondo voi Quale delle due Meglio fare Stampo tutto io 100 cappelli E ve li spedisco Con dedica E poi piano piano Le cose andranno avanti Vedremo cosa si fa Oppure per sveltire tutto Passo direttamente Al stamp on demand Dove posso mettere Anche più prodotti Di diverso colore Senza rompermi i coglioni Per andare in posta A fare le etichette Eccetera 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 Ma guadagnando un pochino Che vedete nel sondaggio Della community Ciao ragà Cioè ma non ha senso Capito Ma che cazzo di senso Mamma 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 Ciao ragà Ciao george